Tabucchi, lo scrittore Tabucchi da Parigi. Tabucchi c'è? Eccola, buongiorno, ci ha seguito? Sì, buonasera. Ci ha seguito? Fin qua? Buongiorno, sì sì, vi ha seguito. La ringrazio di avermi invitato, la saluto, saluto anche l'amico Antonio Padellaro. Io sono venuto qui ma non so quanto tempo ho, ma la pregherei, se le è possibile, di cercare di farmi fare un discorso che abbia un senso e una logica. Perché mi sto rendendo conto che la situazione dell'Italia, Berlusconi, queste cose qui, è come l'infinito di Leopardi in una cabina telefonica, rinchiuso naturalmente. Mi dica, faccia il discorso che vuole. Trovare un percorso logico, posso? Certo, sentiamo intanto cosa ha da dire. Io uscirei dal discorso dei singoli politici che ho la fortuna di non conoscere e personalmente che invece amici e colleghi che fanno il giornalismo devono confrontarsi con loro. Io da scrittore vorrei fermarmi su una parola, perché le parole sono importanti, sulla parola berlusconismo, perché di questo si tratta e di questo tratta molto il libro di Antonio Padellaro. Il berlusconismo, il suffissoismo in italiano indica un qualcosa di sistematizzato, un sistema di organizzato. Non so, si dice adesso banditismo, comunismo, fascismo, eccetera. Quando però il suffissoismo si applica a una persona, esso indica un sistema personale, un potere veramente personale. Per esempio, franchismo, salazarismo, stalinismo, peronismo. In Italia si parla di berlusconismo e dunque anche di anti-berlusconismo. Se esiste la parola significa che esiste la cosa. Il berlusconismo è un enorme mastodontico potere economico e finanziario che Berlusconi ha fatto coincidere con la politica. E vorrei far notare che è una grave anomalia in Europa, perché altrove non ci sono ismi. Io sto parlando dalla Francia, qui adesso c'è sarcosì, ma non esiste il sarcosismo. No, non c'è il sarcosismo, nessuno parla di sarcosismo, sarebbe assurdo. Ci sono delle parole che servono a indicare cose specifiche che esistono in certi paesi. Per esempio, lottizzazione, noi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo la parola. La lottizzazione in francese. L'ottizzazione è tradotto in francese o in inglese. No, esiste la lottizzazione, non esiste proprio. E neanche il sabbiare, per esempio. Un sabbiare non vuol dire nulla. Ecco, quindi non esisteva neanche lo sciracchismo e neanche il mitterandismo come sistema. Così come in Spagna c'è il zapatero, ma non c'era il zapaterismo. C'era prima snar, ma non c'era la snarismo. E via dicendo, insomma. Ora, se faccio un'ipotesi, l'amica Antonio Padellaro possedesse quattro televisioni, una buona parte della televisione pubblica, un impero giornalistico, tre case editrici, centinaia di avvocati, centinaia di giornalisti a propria disposizione, case di distribuzione cinematografiche, altre imprese, eccetera, e mettesse su, non un piccolo giornale come vuole mettere su, ma un partito, non gli sarebbe difficile arrivare a un sistema economico-politico che chiamerei padellarismo. Solo che Antonio Padellaro questa cosa non le può fare perché gli mancano queste. Senta, però le devo fare un'obiezione. No, volevo dire semplicemente, sì, no. No, no, voglio solo fare un'obiezione. Che questa sua idea però è criticata moltissimo anche dentro il centro-sinistra per essere un'idea vecchia. Oggi si dice invece che Berlusconi ha però quel quid, quel tanto, quella creatività che a dispetto di tutte le cose che ha, ha conquistato la maggioranza del paese. Non c'è dubbio che ha conquistato la maggioranza del paese e non c'è dubbio che per conquistare la stragrande maggioranza del paese ci vuole più di un impero mediatico. Io non credo che Antonio Padellaro farebbe il padellarismo, onestamente, anche se andrei a lavorare per lui. Ma guardi, come diceva Totò, a prescindere da quello che dice la sinistra che non mi pare che sia stata molto acuta in questi anni, ecco, il fatto è questo, che se c'è un sistema di potere che fa sì che un presidente del Consiglio, un semplice presidente del Consiglio, come ci sono in tutta l'Europa, che è un epifenomeno governamentale, cioè un governo che oggi c'è, domani non c'è più essere, non può non esserci più. A un certo punto si è scambiato con lo Stato perché, come dice lei, ha stravinto, a parte che non ha stravinto, ha vinto. Nelle elezioni precedenti vinse Prodi, non si sa mai cosa potrà essere il futuro. Che abbia stravinto non vuol dire niente, perché se lei ci pensa, Berlusconi per governare ha messo dentro la Lega partiti che hanno addirittura ispirazione neonaziste, li ha presi tutti, altrimenti non ce la fa a governare da solo. Dopodiché, posso citare come lei dice, scusate che io sono qui poi per 5 minuti, lei ci sarà per tutte le domeniche. Le dico una cosa, il problema è che l'anomalia italiana di cui parlo non esiste in nessun altro paese europeo, lei non ha nessun Presidente del Consiglio in nessun paese d'Europa che metta insieme due poteri così forti come quello politico, quello economico-finanziario e quello mediafico. L'Europa per far entrare nella comunità europea certi paesi del cosiddetto ex blocco dell'este impone che vengano cambiate da quei paesi delle leggi assolutamente illiberali che avevano affinché possano entrare in una comunità che ha una carta di principi, che è quella fatta da De Gasperi, da Adenauer, da Spinelli etc., che non prevede certo una situazione di questo genere. La proposta che faccio nel piccolo modesto contributo che invio Antonio Padellaro per questo libro non è quello di chiedere come, erroneamente ha fatto credo un peraltro bravo giornalista della Repubblica ieri che lo ha recensito, di chiedere delle sanzioni per l'Italia, ci mancherebbe per l'Italia che poi è il mio paese, qui si sta scambiando un esecutivo con uno Stato, attenzione, Berlusconi non è l'Italia, l'Italia a cui penso io è quella di De Gasperi, è quella dei padri fondatori della Costituzione, è quella di Togliati, è quella di tutti quelli che sappiamo, quella di Gramsci, è quella di Gobetti e poi anche quella di Leopardi, perché io sono scrittore, e questa è l'Italia, io non chiedo, no ma voglio dire, Leopardi ha scritto, guardi se lei si legge adesso il discorso fatto sui costumi degli italiani, che è stato scritto nella fine dell'Ottocento, le sembra di un'attualità straordinaria. Dire questa cosa, per esempio, poi posso un attimo commentare quello che viene detto del mio contributo. Lei non si renderà conto, ma siamo in chiusura? Sì, no me ne rendo conto, ma semplicemente volevo concludere il mio ragionamento, ecco, io penso che questo problema non riguardi né la sinistra, né la destra, né il centro, questo riguarda gli equilibri di una carta che non è ancora costituzionale, ma di principi della comunità europea e propongo che l'Europa si esprima chiaramente, cessi di inviare quasi clandestinamente i propri osservatori, per poi lanciare delle censure, delle critiche che entrano in orecchio al governo e escono dall'altro, ma dica chiaramente se una situazione, diciamo così anomala, ecco, può essere accettata in una comunità europea. Grazie Tabucchi, grazie tantissimo, stia con noi perché dobbiamo concludere con Antonio. Antonio e Di Pietro, abbiamo lasciato un po'...